Ringrazio A tutti gli organizzatori di questo incontro per questo invito che ho accolto molto volentieri anche per un motivo personale perché parte da Iesi e io ho passato una parte molto importante della mia infanzia tutte le elementari e le medie a Iesi a cavallo fra la seconda metà degli anni 50 e i primissimi anni 60. Per cui nelle rarissime volte purtroppo che mi capita di passare di lì e di passeggiare per le strade di Iesi ogni angolo, ogni posto è ricco di ricordi anche delle persone che sono state importanti per me in quel periodo. D'altra parte diciamo se uno volesse affrontare in maniera molto seria il discorso della poesia buddista uno non si dovrebbe rivolgere a me ma a uno studioso di letterature lingua sanscrita oppure cinese oppure giapponese perché sono loro che diciamo in qualche modo hanno gli strumenti più importanti per valutare proprio la poesia in sé. Io avendo insegnato religione e filosofia dell'India ovviamente mi sono occupato degli insegnamenti, delle dottrine e non della forma letteraria con cui venivano veicolate, tra cui la poesia è molto presente nella storia del buddismo. D'altra parte bisogna dire che i buddisti che hanno espresso le loro idee anche attraverso la poesia non avevano come intento principale quello di fare letteratura ma quello di veicolare, indicare in tutti i modi possibili quella che è la dimensione della salvezza, della liberazione secondo il buddismo e la via e gli elementi. della via che portano a questo. Ora il punto è che per poter capire proprio i contenuti di queste espressioni inversi del buddismo bisogna avere una qualche coordinata del modo in cui il buddismo vede il suo intento di liberazione e la realtà. Quindi prima di parlare e di leggere insieme con voi, di commentare le poesie, credo che sia utile giusto inserire poche cose della dottrina buddista, tenendo conto che il buddismo si è sviluppato in secoli e secoli, esprimendo scuole più diverse fra loro sia filosoficamente che però ci sono degli elementi fondamentali che ci sono utili da capire perché altrimenti non si capiscono proprio le poesie che essendo una forma molto sintetica danno per scontate certe cose. Allora diciamo che noi per il buddismo viviamo in una visione della realtà che non corrisponde alla realtà. Questa visione è che il mondo è fatto di entità separate, permanenti, le cose, è fatto di cose che sono permanenti e separate e interagiscono nella realtà e che io stesso mi ritengo una persona separata da tutto il resto e dalle altre persone. Questa, secondo il buddismo, è una costruzione della mente. Non corrisponde a quello che in realtà, se esaminiamo la nostra esperienza, la nostra esperienza diretta ci mostra della realtà. Quelle che noi consideriamo cose in realtà sono processi. Secondo la verità dell'aniccia, che vuol dire impermanenza o anicchia, tutto quanto, quelle che noi chiamiamo cose, cambiano in continuazione. A volte non ce ne accorgiamo, ci sembrano stabili per i limiti della nostra percezione. Se pensate, persino le montagne, viste nell'arco di secoli e secoli o di millenni, sono onde della Terra che si alzano e si abbassano. Non c'è niente di fermo in questo universo. Tutto si trasforma continuamente. E dunque, quelle che sono cose sono solo processi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questi processi che chiamiamo cose o che chiamiamo persone, perché anche se noi guardiamo e cerchiamo il nostro io, come notò non solo il buddismo molto prima, ma anche il nostro grande filosofo Hume, se noi cerchiamo questo io, non troviamo niente. Se non, come io, troviamo flussi di pensieri, di ricordi, di emozioni, di sensazioni che cambiano in continuazione, ma non troviamo qualcosa di stabile. Quindi tutto ciò che a noi appare stabile è una costruzione della mente e questa costruzione è la radice anche della nostra sofferenza, perché nel momento in cui, per esempio, io sono un'entità separata, è chiaro che quello che prevarrà è l'ecocentrismo, l'egoismo e quindi il conflitto e quindi la sofferenza. E anche la nascita e la morte di queste cose in realtà sono processi che non finiscono. Per fare un esempio semplice che fa Thich Nhat Hanh, un grande esponente di buddismo recentemente scomparso, pensate alla separazione fra una rosa, un ramo spinoso e la immondizia. Non c'è niente di più separato, di più diverso. La rosa profuma, l'immondizia puzza, la rosa è colorata, un ramo spinoso? No. Eppure, 15 giorni fa, quella che adesso è una rosa era un ramo spinoso e fra 15 giorni sarà immondizia. E non possiamo trovare nessun punto preciso dove finisce la rosa in quei 15 giorni e comincia l'immondizia, perché quelle linee le mette alla mente, le mette attraverso questi nomi. E allora che cos'è ramo spinoso, rosa e immondizia? Non tre cose separate, tre nomi che indicano un unico processo senza nome che è cominciato con l'universo e va avanti anche oltre. Ecco, questo è un esempio, ma un altro esempio lo possiamo vedere quando pensiamo che sono entità separate e la rosa è una nuvola, ma la nuvola produce la pioggia, l'acqua della pioggia è assorbita e diventa la rosa. E naturalmente, quindi, quando noi diciamo il sole fa evaporare l'acqua del mare e fa la nuvola, quindi quando noi diciamo sole, nuvola, rosa, usiamo nomi diversi, utili, ma per indicare qualcosa che è un processo unico che non può essere separato e frammentato. La costruzione di queste cose nasce, secondo il buddismo, dal fatto che noi usiamo il pensiero concettuale che si basa sul linguaggio e quindi sui nomi. E i nomi hanno questa caratteristica, che sono limitati, perché se dico rosa non dico nuvola, e che sono in qualche modo fissi, fermi. La realtà, abbiamo detto, si muove in continuazione, ma i nomi sono fermi, sono come delle fotografie e quindi non possono rendere l'essenza vitale di tutto questo. Quindi c'è una critica del buddismo al tentativo di creare, cioè alla costruzione di una visione della realtà che porta a sofferenza, dovuta a credere che i concetti e i nomi che abbiamo siano realmente corrispondenti ai processi che invece sono nella realtà. L'altro punto fondamentale che va menzionato è che per il buddismo non esistono tanti processi divisibili, in realtà sono tutti correlati. È chiaro che ogni cosa per esistere ha bisogno di tutti gli altri processi, quindi la realtà è un unico grande processo e che può essere visto come tanti processi interrelati in un'unica rete. Questo concetto del Praditya Samothpada, in sanspito, cioè di questa interdipendenza funzionale di tutti i processi dell'universo, sono un punto veramente centrale della visione buddista che, tra l'altro, prende conto del perché il buddismo ha avuto un dialogo molto proficuo, per esempio con il pensiero ecologico occidentale, che vede appunto l'interdipendenza di tutte le cose. Un ultimo accenno a un concetto che è quello di vacuità, perché è centrale anche quello ed è spesso frainteso, quando il buddismo dice che tutto è vuoto, eccetera. Allora, la vacuità non vuol dire inesistenza, non vuol dire il nulla, vuol dire che non esiste separazione fra le cose. Anche qui può essere molto utile una metafora che fa Thich Nhat Hanh, quando dice, e proprio città la poesia, perché dice, un poeta che guardi in profondità un pezzo di carta che uno ha di fronte, in quel pezzo di carta ci vede un albero, ci vede una nuvola, perché questo pezzo di carta sia qui, ci deve essere stato un albero, una nuvola che ha fatto piovere che ha nitrito l'albero, il sole che ha fatto evaporare l'acqua ha fatto la nuvola, ci deve essere stato un taglialegna, e quindi i genitori del taglialegna, e anche il pane che ha mangiato il taglialegna, e quindi anche il grano. Quindi tutte queste cose confluiscono adesso in questa cosa, in questa parte del processo che adesso abbiamo di fronte, che chiamiamo carta. E la domanda è, a parte tutte queste cose, perché se noi ne leviamo anche solo una, se noi leviamo uno dei due genitori del taglialegna, questo pezzo di carta non sarebbe qui. E allora, diciamo, a parte il sole, le ruole, gli alberi, i tagliaboschi, c'è qualcosa a parte questo che è carta? No. Carta è il nome che diamo a questo processo, e dunque questa carta è vuota di essenza propria, perché non è carta, è un nome. Ma la cosa interessante è che diventa introvabile la sua essenza, perché rimanda ad altro, rimanda all'albero, rimanda... Ma il fatto è che se io prendo anche la nuvola, per esempio, e faccio lo stesso discorso, quello che è nuvola è fatto tutta di processi che non sono la nuvola, e non c'è una cosa sua, una pepita sua. E capite quindi che ci troviamo in un universo di relazioni senza più trovare niente che sia in relazione. Allora, questa comprensione della vacuità, quando viene realizzata, dissolve la rigidità di tutte le cose, di tutte e soprattutto del mio sé, del mio io, come separato da tutto il resto, e crea un vasto spazio dove non c'è né nascita né morte. E questo ha a che fare con la liberazione, che viene chiamata a volte incondizionato, a volte nirvana, no? Estinzione, eccetera. Ho detto solo queste poche cose perché ci danno delle giuste coordinate per capire qualcosa delle poesie. Allora, adesso cominciamo a leggere insieme alcuni testi che sono presi dal canone Pali, che è il più antico canone che ci sia rimasto nella sua completezza. È in lingua Pali che è derivata dal sastro, insomma. E c'è un testo che poi diventerà pan-buddista perché abbiamo anche una versione in sastro, anche nelle altre forme di buddismo successive, molto famoso, che si chiama il Dhammapada. I versi del Dhammapada dicono, per esempio, questo. Dicono, contempla questo mondo come una bolla d'acqua, come un miraggio. Chi vede il mondo così diventa invisibile al re della morte. Allora, alla luce di quello che abbiamo detto, qui viene espresso la bolla d'acqua e il miraggio, cioè non vederlo quando metti i nomi come se queste cose fossero veramente come appaiono, perché c'è una vasta libertà indietro tutto questo. E se tu riesci a vedere questo, sei libero dal terrore della morte, perché capirai che il tuo io non si esaurisce in un corpo, in una mente, perché nulla è separabile da tutto e quindi il tutto continua. Nella tradizione buddista è molto importante il sviluppo di un'attenzione, di una consapevolezza. Perché? Perché per riuscire a scardinare questa specie di costruzione del mondo illusoria che facciamo attraverso le parole, i pensieri, i concetti, è necessario esaminare in più in profondità quella che ci dice la nostra esperienza diretta. E quindi in questo è importante lo sviluppo della capacità di osservare l'esperienza al di là dei nomi e delle parole che ci proiettiamo sopra. Ecco perché la distrazione è un pericolo di cadere sempre in queste illusioni, mentre invece l'attenzione è uno strumento fondamentale. E allora c'è un verso famoso del Dhammapada che dice Chi prima viveva immerso nella distrazione e poi si fa attento, costui illumina questo mondo come la luna liberata dalle nubi. Questa immagine della luna liberata dalle nubi compare più volte nei testi buddhisti e non so se vi è capitato ormai in una bella notte, magari autunnale, di vedere la luna coperta da una nuvola e poi mano a mano che la nuvola si sposta, si scopre la luna e la luna getta la sua luce su tutto. Ecco, la luna è un simbolo molto ricorrente anche per esempio in Cina e in Giappone come un simbolo della mente luminosa che coincide con la liberazione, con l'illuminazione, no? Ecco, allora viene più usata il simbolo della luna che quella del sole perché la luna è un'illuminazione silenziosa ed ha un valore quindi simbolico importante perché nella via buddista questa illuminazione si ha con lo sviluppo di una mente quieta, silenziosa e la notte è più silenziosa del giorno. Poi abbiamo un verso del Dhammapada interessante, però prima di leggerlo è interessante la cornice narrativa che ci aggiunge un commentario antico sempre però di questi versi, cioè racconta, magari in maniera leggendaria, ma racconta il contesto in cui questi versi sono stati detti dal Buddha e il contesto di questo raccontino dei commentari narra che c'era un giovane uomo che durante una festività nella sua città c'erano, come spesso succedeva in India, vari intrattenimenti anche di numeri circensi direi, di acrobati eccetera e lui assistendo a un numero di acrobazia fatto da una ragazza si innamorò perdutamente di questa ragazza, però lui essendo evidentemente molto timido invece che cercare di così entrare in contatto eccetera, andò a casa, si sdraiò a letto e disse io non posso vivere se non riesco a stare con questa ragazza. Allora il padre, che era un ricco mercante, un uomo più con i piedi per terra, andò dal padre della ragazza e sondò se era possibile una unione di questi due giovani. Il padre della ragazza dice guarda, se lui vuole venire con noi sì, però noi facciamo una vita girovaga, andiamo di piazza in piazza, quindi se lui vuole si unisce a noi e vediamo che succede. Il giovane contentissimo va ad accompagnare quindi questo padre con questa figlia e che facevano questi spettacoli di città in città. Lui naturalmente così faceva i lavori più umili, con le vettovaglie caricava e scaricava l'asino e così via. Però a quanto pare questa ragazza non ne voleva sapere di lui, quindi non gli dava nessuna soddisfazione, lo ignorava, o se si riferiva a lui diceva l'uomo dell'asino. Fino a che lui cominciò a essere disperato di poter conquistare l'amore di questa ragazza e allora un giorno andò lì da lei e disse senti ma dimmi qualcosa perché io sennò qui non so se rimanere o darmene via. E la ragazza gli disse guarda che per me se tu rimani o te ne vai è esattamente la stessa cosa. Di nuovo cadde nella disperazione però a un certo punto gli venne l'idea, dice ma forse questa ragazza mi disprezza perché non sono un acrobata bravo, come lei, e allora fece questo progetto di allenarsi moltissimo per diventare un grande acrobatrice. Vedrai che nel momento in cui farò un exploit acrobatico allora lei comincerà a stimarmi e magari si innamorerà di me. E così comincia di nascosto a allenarsi, allenarsi, allenarsi e dopo un lungo periodo di tempo finalmente riesce a essere bravo a fare una cosa molto difficile e decide di farsi vedere in una festa che capitò nella piazza di una grande città. E allora che c'era un palo o una canna alta non so quanto, lui stava con un piede in equilibrio in cima a quest'asta e doveva fare un doppio salto mortale e riatterrare in equilibrio su questa asta. Naturalmente stava lì, tutta la folla si riunisce per vedere questo grande exploit e insomma era il momento della verità perché ne andava di tutta la sua felicità o infelicità. Se non che mentre stava per saltare la vede che la folla si volta da un'altra parte e in effetti dall'altra parte viene un uomo con un viso sereno e splendente. Era il Buddha, un uomo il cui carisma era talmente luminoso che tutti quanti rimanevano stupiti solo a vederlo. Quest'uomo si avvicina e si ferma a guardare l'acrobata, il quale è ancora più contento, dice adesso tutti mi guardano compresa questa persona eccezionale e quindi sta di nuovo per fare questo salto e a questo punto il Buddha disse questi versi che si trovano nel Dhammapada e dice lascia andare ciò che è dietro, lascia andare ciò che è avanti e non appoggiarti nemmeno in quello che è in mezzo. Passando all'altra sponda dell'esistenza, con la mente libera da tutto, non sarai più soggetto a nascita e morte. Allora, la traduzione che viene data più spesso, questa è una traduzione abbastanza letterale, lascia andare ciò che è dietro, ciò che è avanti e ciò che è in mezzo. La maggior parte, i commentari eccetera, la intendono riferita al tempo e quindi spesso traducono lascia andare il passato, lascia andare il futuro che è avanti e lascia andare anche il presente e allora sarei libero da nascita e morte. Però è chiaro che in questo racconto che viene aggiunto a questi versi la questione era un'altra perché si trattava di un equilibrio impossibile da realizzare e in cui lui aveva in mano tutta la sua vita e tutta la questione di felicità e infelicità. Allora, questo dire lascia andare tutto, naturalmente si riferisce proprio alla mente, agli opposti, avanti, dietro, passato, futuro. E anche il presente si è visto come un momento fra il passato e il futuro, cioè esci dalla dinamica degli opposti, esci dal tempo e allora ti trovi laddove non c'è né nascita né morte. Un altro testo che si chiama Udana ci racconta, ci mostra un aspetto importante che nel buddismo è molto presente che si potrebbe chiamare apofatinismo, cioè il fatto che per parlare della dimensione liberata ovviamente non si può usare nel linguaggio, nel pensiero. Si dice spesso che la liberazione attacca vacciara, cioè una sfera che è al di là del pensiero. Il pensiero è troppo limitato per poter accogliere qualcosa di infinito. E allora l'unico modo a volte di esprimere che cos'è questa dimensione dell'incondizionato è dire quello che non è. E in questo famoso passo dell'Udana viene detto esiste uno stato dove non c'è né terra, né acqua, né fuoco, né aria, dove non c'è né lo spazio infinito, né la coscienza infinita, né il vuoto nulla, né la presenza o l'assenza della coscienza, dove non c'è né questo mondo, né un altro mondo al di là, né entrambi, dove non c'è né luna né sole. Da lì non si viene a nascere e lì non si va. Lì non c'è nascere, né durare, né decadere, perché è fuori del tempo. Non è fermo, né si muove, non si fonda su nulla. Ecco in vero la fine del dolore. È interessante notare che, senza andare nei dettagli, che dove dice che non c'è lo spazio infinito, la coscienza infinita, il vuoto nulla, eccetera, si sta riferendo a degli stati meditativi fra i più avanzati che il buddismo coltiva. Il buddismo coltiva la meditazione e nelle punte più elevate della concentrazione, della piede mentale, abbiamo questi stati dello spazio infinito, della coscienza infinita, del vuoto, eccetera. Ma questi spazi non sono la liberazione. Perché? Perché la liberazione è incondizionata, non può essere prodotta, perché tutto ciò che è prodotto, proprio perché è prodotto, prima o poi finisce. Tutto ciò che nasce, proprio perché nasce, more. Tutto ciò che è causato da cause e condizioni, proprio perché è causato, prima o poi finisce. Tutto ciò che accumuli, proprio perché lo accumuli, si esaurirà. Mentre l'incondizionato è qualcosa che non può essere raggiunto o causato, realizzato. E quindi neanche le forme di meditazione più profonda che il buddismo, diciamo, frequenta, possono portare, realizzare l'incondizionato, perché altrimenti non sarebbe incondizionato, sarebbe prodotto dalla mente che medita. Quindi tutte queste forme di meditazione, in realtà, alla fine, mostrano che qualsiasi cosa la mente cerchi di fare per realizzare la liberazione, non può raggiungerla. E non può raggiungerla perché essendo incondizionata vuol dire che non è condizionata neanche dallo spazio e dal tempo. Per cui è sempre qui, è sempre ovunque. Solo che la mente deve provarle tutte prima di rendersi conto che è già qui, che non sta da un'altra parte, che non la raggiungerà in futuro, ma che è qui. E il problema non è di fare qualcosa per raggiungerla, ma di vedere che è già qui. Ecco perché viene detto che da lì non si viene e da lì non si va. E qui non è un lì, è un qui. Ed è un qui non nello spazio. Infatti dice non è fermo né si muove, perché tutto questo avviene, stare fermo o muoversi avviene nello spazio, ma è oltre lo spazio. Non si fonda su nulla, viene detto. E questa è l'unica vera fine del dolore. Abbiamo anche nel canone antico alcune sezioni chiamate Teragata e Terigata, che sono delle poesie composte da monaci o monache spesso dopo aver raggiunto il risveglio. E quindi hanno composto dei versi per esprimere questa situazione, questo risveglio in qualche modo. E ce n'è uno di una monaca che si chiama Patacara, che ha altericata. Questa Patacara era una donna sposata che la vita ha messo a dura prova perché rimase vedova e poi le morì anche il figlio. Quindi visse un dolore straziante e proprio questa grande sofferenza evocò in lei un anelito a liberarsi definitivamente dalla sofferenza. Ma questo vuol dire cercare una dimensione che va oltre la nascita e la morte. E allora in questa poesia lei dice così. «Raccolsi la mente in se stessa come chi esercita un nobile destriero. Quindi, presa la lampada, entrai nella mia capanna. Contemplando la fiamma, sul giaciglio mi siedo e poi, afferrato il lucignolo, immergo lo stoppino nell'olio e lo speggo. Ah, la liberazione della lampada, liberazione della mente che si realizza. Ecco, qui il simbolismo è l'estinzione di una fiamma. È interessante perché nirvana, che è uno dei nomi che vengono usati per indicare la liberazione, vuol dire estinzione in genere di una fiamma. oppure, ecco, per esempio il verbo che è corrispondente nel linguaggio quotidiano indicava qualcosa che prima scottava e che poi si raffredda. Quindi viene usato per il cibo. Il riso che scotta non lo puoi mangiare, ma quando si raffredda diventa cibo nutriente e lo puoi mangiare. oppure quando uno ha la febbre scotta, ma poi quando sfebbra, ecco, il sollievo. Ecco, quindi l'estinzione della fiamma non vuol dire l'estinzione, entrare nello stato del nulla. Significa l'estinzione delle tre fiamme fondamentali della nostra sofferenza, che sono attrazione, repulsione e confusione. Queste sono le cose che si estinguono quando si raggiunge il risveglio. E quindi questo spegnimento della lampada, del fuoco, è qualcosa che poi si ritroverà in altri significati, anche noi lo vedremo. Uno di questi è che quando una persona si risveglia diventa introvabile, come la fiamma quando la spegni. Che fine fa? Ecco, diventa introvabile perché, sì, noi possiamo vedere, per esempio, il corpo di un liberato, ma non possiamo cogliere la liberazione, non perché non c'è, ma perché gli strumenti che abbiamo a disposizione per farlo, che sono sempre i pensieri, i concetti, non è adeguato, non riesce a cogliere niente, come una rete da pesca, no? Che può cogliere i pesci, ma non può mai catturare l'acqua in cui è immersa. Uno dei testi che, secondo gli studiosi, appartiene agli strati più antichi del canone Patti, quindi più vicini, più vicini a quello che potrebbe essere stato il messaggio del Buddha, spesso si sofferma su aspetti molto importanti che nel buddismo avranno anche un notevole esempio. ecco un verso del Suttanipata. Ho costruito una solida zattera, ho attraversato il fiume e ho raggiunto l'altra riva, non c'è più bisogno della zattera. Adesso, se vuoi, piovi pure o cielo. Allora, questa metafora della zattera è fondamentale nel buddismo, perché il buddismo critica, come dicevamo, tutti i concetti con cui la mente, attraverso il pensiero e le parole, pretende di dire la verità. Sono utili nella vita quotidiana, ma nel momento in cui pensiamo di poter descrivere come stanno le cose, le parole e i concetti non sono lo strumento adeguato. Quindi, anche l'insegnamento del Buddha non deve essere preso come la verità, capite? Perché nella verità non si può esprimere a parole, non si può esprimere con dei pensieri. È una cosa viva, è una cosa che c'è, che si può vedere e sentire, ma non si può esprimere in un insegnamento. Quindi il Buddha stesso dice, quello che io vi ho insegnato non è la verità, non prendetelo come una verità assoluta, ma è solo una zattera per attraversare, è solo una via da percorrere. Ma poi, quando siete arrivati alla reale liberazione, all'incondizionato, l'altra sponda, è chiaro che non ve la dovete portare appresso, perché allora diventa un peso. Anzi, ci stanno alcuni passi del canone dove il Buddha dice che questo mio insegnamento, pur così prezioso, è come un serpente velenoso, se lo afferrate nel modo sbagliato, vi avvelena, e il modo sbagliato è farne la verità. E quindi, nel Suttanipata, noi troviamo tantissime volte in cui si criticano le itti, cioè le convinzioni, appunto, che sono quando noi prendiamo un concetto e pensiamo che la realtà sia proprio fatta così, perché nel momento che io aderisco, mi attacco, l'attaccamento buddista, è anche alle convinzioni. Mi attacco a una convinzione, e la prendo per verità assoluta, tutte le altre saranno false, e comincio a seminare discordi e conflitti con coloro che hanno altre opinioni. Ecco, vi leggo alcuni di questi versi. Come un leone impavido fra i clamori, come il vento che non si impia in una rete, come il loto che non viene insudiciato dall'acqua, vai solitario come un rinoceronte. Qui è interessante il simbolismo del loto, perché il loto, che è molto comune in India, ha questa caratteristica che il suo gambo finisce con delle radici che vanno proprio nella melma in fondo, ma il loto fiorisce galleggiando sulla superficie e quindi non è sporcato da quella melma, anche se non perde il contatto con quella melma. E quindi è un simbolismo proprio di come, senza cercare di sfuggire alla realtà della sofferenza, alla realtà della nascita e della morte, ma affondando le radici in ciò che noi siamo, sentiamo, possiamo arrivare però a fiorire oltre questa sofferenza e a non esserne contaminati. E poi viene detto poiché non è facile vincere l'attaccamento alle convenzioni, l'uomo analizzi questo aggrapparsi alle idee. Così egli rimuove da sé questi attaccamenti e abbraccia la verità. Il saggio non si abbandoni a speculazioni teoriche, non si consideri né migliore né peggiore né uguale agli altri. È interessante perché non dice solo non si consideri né migliore né peggiore, ma anche né uguale, perché il problema è la separazione. Tu ti puoi considerare peggiore, migliore o uguale se ti senti separato dagli altri. E la separazione è la fonte della sofferenza. Il saggio non si abbandoni a speculazioni teoriche o pratiche intorno al mondo. No, scusate, questo l'ho già detto. Dei vari sistemi che ho esaminato non ne ho abbracciato alcuni, ma dopo aver conosciuto e commiserato le diverse convinzioni, ho scoperto e realizzato la pace interiore che è libera dall'attaccamento a tutte le convinzioni. Capite? Anche a quelle, anche alla dottrina bobbista stessa, la Zat. Non in un sistema, non in una tradizione, né in una conoscenza, né in un codice morale si trova la purezza e nemmeno nel negare il sistema, la tradizione, la conoscenza o il codice morale. Ma abbandonando e ignorando queste cose, l'uomo tranquillo e indipendente non agogni all'esistenza, cioè sia libero da questo. Quindi non è che il buddismo dice allora devi andare contro la tradizione, contro il sistema, contro la conoscenza o contro la morale. Il buddismo ha una morale molto importante, ha privilegio alla conoscenza, eccetera, ma non è non è questo il modo, non sono ciò che ci può portare alla liberazione. La liberazione è proprio procedere, come diceva prima, libero, come un rinoceronte, libero dall'attaccamento. Non esistono vincoli per chi è distaccato dalle convinzioni. Non c'è errore per chi si è emancipato tramite la conoscenza. Chi si aggrappa alle idee e alle convinzioni vive seminando la discordia nel mondo. Io certo non affermo questa è la verità, come a vicenda l'un contro l'altro sostengono distrutti, ciascuno di essi tenendo per vera la propria opinione e perciò giudicando storto l'altro. Ma veramente non ci sono al mondo eccetto che nella mente tante diverse verità fisse. La verità se io la prendo come una cosa fissa non rispetta il fatto che è tutto un processo e tutto il divenire ma essi creando sofismi sulla base delle proprie opinioni proclamano la duplice teoria del vero e del falso. Come una fiamma spenta dalla forza del vento scompare e non ha più nome così il silenzioso che si è liberato da nome e forma scompare e non è più nominabile questo è un concetto che ho detto poco fa e si rifà allo stoppino spento della monaca no? Vedi il mondo come vuoto sempre consapevole elimina l'idea dell'io separato e così supererai la morte il re della morte non vede colui che vede il mondo così questo è un verso che richiama quello che avevamo visto prima del Dhammapada nel Visu di Manga abbiamo citati dei versi che sottolineano il concetto di Anatta cioè della non esistenza veramente di un mio separato infatti viene detto in maniera molto lapidaria c'è la sofferenza ma nessuno che soffra ci sono le azioni ma nessuno che agisca c'è la liberazione ma nessuno che la raggiunga c'è il sentiero ma nessuno che lo percorre cioè la liberazione consiste nel vedere che tutto questo sono eventi del tutto impersonali e che quindi non c'è più colui che soffre colui che agisce colui che si libera ma ci sono solo sofferenze azioni e libertà che si avvicendano in una dimensione come ho detto del tutto impersonale ecco e arriviamo a Shantideva che invece non è più non stiamo più parlando del del canone pali ma di un testo fondamentale di quello che è il buddismo mahyana cioè un'evoluzione successiva del buddismo ora è interessante Shantideva perché nel suo poema famoso che è il bodiciari avatara cioè la carriera del bodhisattva che è una figura importante nel buddismo insomma è il cammino verso la liberazione diciamo Shantideva è un'eccezione abbastanza rara nei testi non solo buddisti ma diciamo indiani in generale che come vedete da questo che abbiamo già letto fino adesso sono test poesie che in qualche modo parlano dell'insegnamento in una maniera molto impersonale invece Shantideva racconta in questo poema anche molto usando la parola io cioè racconta le sue vittorie le sue sconfitte racconta la sua disperazione di fronte alla sofferenza la sua paura di fronte all'idea di morire e il senso di refrigerio di sollievo nel momento in cui in qualche modo ha una possibilità di liberazione quindi da questo punto di vista l'aspetto emotivo in Shantideva appare più evidente quindi il suo poema ha più affinità con come noi siamo abituati a familiarizzarci con la nostra poesia occidentale dove invece l'elemento dell'io l'elemento delle emozioni l'elemento soggettivo è molto più accentuato che non quello impersonale la leggenda narra che Shantideva fosse un monaco che siccome evidentemente aveva dentro di sé realizzato l'assenza dell'io non si faceva notare nel monastero anzi faceva i suoi lavori umili senza mostrare alcun talento particolare apparteneva a quella categoria di monaci disprezzati dagli altri che sono solo capaci di mangiare dormire bere insomma e nient'altro e allora a un certo punto in quel monastero si decise per un po' per scremare la situazione di sottoporre a una specie di esame tutti i monaci in cui ogni monaco veniva invitato davanti in presenza di tutti gli altri a dare una prova della sua comprensione dell'insegnamento buddista lo potevano fare commentando un famoso testo oppure se erano particolarmente geniali con un testo composto da loro Shantideva quando fu il suo turno disse che avrebbe recitato un poema diciamo fatto da lui fra diciamo l'ilarità degli altri monaci che dicono figure di questo chissà che farà e invece nel momento che comincia e va avanti con questo poema rimangono tutti folgorati dalla saggezza e dalla intensità di tutta questa esposizione dell'insegnamento buddista e sempre la leggenda dice che furono ancora più esterefatti quando verso la fine recitando un certo verso Shantideva cominciò a sollevarsi nell'aria e poi con le ultime parole e poi scomparve e non se ne seppe più niente che è un simbolismo della trascendimento dell'egoità ovviamente dell'io e poi andarono nella sua cella e trovarono il testo scritto del suo bodiciario avatar e qui leggiamo alcuni versi che hanno a che fare con la consapevolezza della morte quello che il Buddha secondo la leggenda della sua vita ebbe quando cominciò a vedere la vecchiaia la malattia che è poi un funerale e capì che tutti quanti devono morire compreso lui e fu la spinta ad andare verso la liberazione il buddismo ha un termine preciso per indicare questa spinta San Vega che vuol dire il senso di urgenza quando vedi un pericolo perché a volte non ti rendi conto quindi già rendersi conto in maniera concreta della nostra angoscia per la nostra mortalità è una forma di primo risveglio a mettersi in moto per risolvere questa spada di Damo che essendo nati noi sicuramente moriremo e questo ci dà angoscia e questa angoscia chiede e ci spinge verso una soluzione se c'è allora versi di Shantideva la morte non si ferma a considerare ciò che è fatto o che resta da fare con un umore ci sono tante cose che vorrebbe finire e non riesce a finire è un colpo di fulmine improvviso che ci termisce e né il sano né il malato si devono fidare di lei chi non mi è caro non sarà più chi mi è caro non sarà più io stesso non ci sarò più e ogni cosa smetterà di esistere gli oggetti che percepisco non saranno più che un ricordo come ciò che si vede in sogno spariranno senza lasciare traccia non avevo capito di essere io stesso uno straniero di passaggio qui per l'ottenebramento l'attrazione e l'avversione ho spesso commesso il male notte e giorno senza tregua la vita scorre via né a ciò di alcun rimedio perché non morirò sicuramente anche io l'agonia è una prova dura anche se circondato dai miei sarò coricato nel mio letto dovrò sopportarla da subito avendo compreso che non c'è scampo in alcun luogo ripiombato così nello sgomento che fare allora in un frangente così terribile chi mi dà sicurezza e come fuggirò è inevitabile che io non ci sarò più come può allora la mente stare in pace la liberazione è l'abbandono di ogni cosa e il mio spirito anela alla liberazione e visto che devo lasciare andare tutto tanto vale che doni ogni cosa a tutti gli esseri come accade quando un cieco trova una perla in un mucchio di immondizia così non so come è sorto il me il pensiero dell'illuminazione è un elisir che serve ad abolire la morte del mondo un tesoro inestimabile per eliminare la miseria della terra si dice tocca a chi soffre difendersi dalla sofferenza però anche se il dolore del piede non è quello della mano perché la mano va a allenire il piede dolente questo è un verso importante perché parla della compassione nella concezione buddista allora si dice chi soffre è lui che deve difendersi dalla sofferenza no? e invece la compassione buddista è aperta ad alleviare la sofferenza degli esseri ecco infatti la cosa si dice tocca a chi soffre difendersi dalla sofferenza però anche se il dolore del piede non è quello della mano perché la mano va a allenire il piede dolente quando ci fa male un ginocchio un piede la mano spontaneamente va lì a massaggiare per lenire il dolore perché che cos'è che rende questo gesto spontaneo è il fatto che non sono separati la mano e il piede non sono due cose diverse sono parte di un unico organismo e allora spontaneamente la mano va a allenire il piede perché sono la stessa lo stesso organismo non sono separabili e questa è tutta la differenza fra l'egoità di chi crede di essere un mio separato e la visione di chi vede se inseparabile da tutto il resto e quindi non esistono tanti se separati e la sofferenza tua diventa la sofferenza mia è come in fondo la stessa detto evangelico ama il prossimo tuo come te stesso si potrebbe aggiungere perché tu sei il tuo prossimo non c'è separazione e allora la compassione non è un io separato che dall'alto guarda un altro che soffre e dici io provo compassione per te mentre io sto bene no è un moto del tutto spontaneo dove non c'è un io che agisce avviene da sé l'aiuto compassionevole perché nasce da una non separazione e ecco il verso in cui in cui Shantideva cominciò a sollevarsi e sparì dice quando quando sia l'essere sia il non essere non si presentano più alla mente allora in assenza di ogni altra possibilità la mente senza più nulla su cui poggiare trova la pace sarebbe commentare questo ci vorrebbe troppo tempo però insomma l'idea è questa essere e non essere sono i due grandi opposti che comprendono tutto una cosa o è o non è qualsiasi cosa o è o non è quindi sono un opposti universali ma la mente che sempre pensa in base ragione torto bene e male essere e non essere in base a tutti questi opposti nel momento in cui questi opposti non si presentano più e non c'è una terza in assenza di ogni altra possibilità o essere o non essere non c'è un terzo e allora se essere e non essere scompagnano scompare tutto e la mente non ha più un punto d'appoggio ed è questa mancanza del punto d'appoggio che dà la vertigine della liberazione perché questa vertigine è la pace che non può essere più scossa ora facciamo un grande salto purtroppo non possiamo neanche leggere alcune bellissime cose di forme di buddismo diverse come quello tibetano e passiamo invece perché è molto diversa il modo di esprimersi a quello che è invece le forme le poesie del buddismo estremo orientale Cina Vietnam Giappone eccetera in particolare pensiamo al buddismo cosiddetto Chan che poi passato dalla Cina al Giappone diventerà Zen questo buddismo è interessante perché di nuovo riscopre la libertà da tutte le convinzioni sottolinea questo in base a una scuola particolare indiana e e quindi anche spesso manda all'aria persino la dottrina buddista perché se tu ti attacchi alla dottrina buddista è come quando ti porti la zattera sulle spalle dopo che hai attraversato e quindi spesso è molto iconoclasta famosa quella famosa espressione se incontri un buddha fuori di te uccidilo cioè perché perché ciò che è la liberazione è sempre qui non sta né nel futuro né in un altro posto ecco e in Cina poi questo questo Chan questa forma di buddismo che diventa una forma autenticamente cinese senza tradire i principi essenziali del buddismo ma assume un modo di esprimersi cinese che è molto influenzato dal taoismo quindi con una grande attenzione alla natura alla naturalezza gli indiani vanno verso l'assoluto l'astrazione i cinesi invece esprimono lo stesso concetto di liberazione attraverso la natura ecco allora c'è da questo punto di vista interessante due poesie che si trovano nel cosiddetto Sutra di Huineng Huineng è stato un grandissimo patriarca della scuola Chan che ha dato luogo alla scuola del sud è interessante anche qui la cornice narrativa Huineng era era un'analfabeta non sapeva leggere non sapeva scrivere una volta passando per strada trovò uno che stava leggendo un testo buddista probabilmente il boddicià di Avatara ecco e stava all'epoca quando si leggeva anche da noi nel medioevo si leggeva ad alta voce mentre passava a Huineng sentì questo verso che dice quello simile a quello che abbiamo letto prima del doviciario Avatara la mente non ha un luogo su cui bruciare questa frase in quel momento come un fulmine gli dette la prima apertura verso la liberazione poi andò a farsi monaco entrò nel monastero e niente stava lì faceva i lavori del monaco non sapeva né leggere né scrivere il patriarca precedente che stava lì era molto vecchio e doveva indicare un successore e il favorito era il suo discepolo più dotto ora qual era il modo per proporsi come successore scrivere scrivere sul muro su un muro del monastero una breve poesia che potesse sintetizzare la propria comprensione dell'insegnamento del nucleo essenziale dell'insegnamento tu scrivevi questa poesia poi magari capitava che il vecchio patriarca la leggesse e da lì valutava se il livello di comprensione del candidato fosse all'altezza di essere successore il diciamo favorito appunto questo dotto che si chiamava Shin Tzu scrisse sul muro questa questa poesia allora il corpo è l'albero del risveglio la mente è un lucido specchio puliscilo con cura di contigo non lasciare che si copra di polvere qui compare un altro simbolismo molto ricorrente nella poesia cinese nella poesia buddista che è quella dello specchio lo specchio è rappresenta la mente rappresenta la coscienza perché che cosa fa la coscienza osserva le cose le riflette ecco crea un'immagine delle cose che vede quindi la mente è lo specchio è chiaro che se lo specchio si copre di polvere riflette male e non vede la realtà così com'è e quindi bisogna attraverso una pratica meditativa continua pulire sempre lo specchio della mente in maniera che veda le cose così come sono rifletta le cose così come sono questa era la comprensione di Shinshu Wineng chiese a un monaco che sapeva leggere di leggere di quella poesia e disse se per piacere scriveva la sua e la poesia di Wineng disse non c'è albero del risveglio né lucido specchio poiché in realtà tutto è vuoto dove può accadere la polvere vedete che qui abbiamo la comprensione della sciuniatà cioè dice che nella realtà non puoi raggiungere la liberazione pulendo lo specchio eccetera attraverso una pratica che non può causare lì l'incondizionale ma quello che devi renderti conto è che quando tu parli delle cose della mente dello specchio del corpo stai usando di nuovo il pensiero il linguaggio che vede delle cose laddove c'è una vastità libera che è la vacuità e in questa vacuità non c'è polvere che possa cadere su qualcosa se si riesce a vedere questo allora si è liberi e risvegliati naturalmente quando lesse questa poesia il vecchio patriarca capì che era Wineng quello che aveva capito l'essenza più profonda dell'insegnamento buddista che è la mente non ha un posto appoggiare quando la mente gli levi ogni appoggio allora precipiti nell'infinito e allora di notte di nascosto andò da Wineng gli dette la ciotola e l'abito che era del primo patriarca era il segno che tu eri un patriarca si tramandava da patriarca a patriarca e gli disse scappare via perché non si sa magari se qualcuno gli avrebbe potuto fare del male visto che non era certo nessuno si aspettava che fosse lui il successore e poi continua la storia di Wineng ma non abbiamo tempo ovviamente di raccontarla e c'è un altro un verso di Aquin che dice non sapendo quanto vicina sia la verità gli uomini la cercano lontano simile a colui che in mezzo all'acqua chiede implorato da bere ecco vede qui di nuovo abbiamo l'idea la liberazione si trova non è condizionata né dallo spazio né dal tempo quindi non è che io adesso non ho la liberazione ma un giorno cioè nel tempo futuro ce l'avrò non è che io adesso qui non c'è ma in un altro posto c'è capite è sempre qui bisogna solo accorgersene allora se io mi metto in una ottica di una ricerca né della liberazione quando uno cerca vuol dire che non ha quindi la ricerca della liberazione non guarda mai il presente adesso guarda sempre un po' più in là nel futuro e quindi rimanda sempre a un posto dove non la può trovare perché se non la trovi adesso non la trovi da nessuna parte ed ecco allora che la liberazione deve in qualche modo la verità in questo è qui e quindi chi la cerca lontano è proprio nel cercarla la lontana cercare vuol dire non trovare in realtà perché simile a colui che in mezzo all'acqua chiede implorando la pere non si accorge che l'acqua è tutta intorno a lui mumon centinaia di fiori in primavera la luna d'autunno una fresca brezza estiva la neve dell'inverno libera la mente dai pigri pensieri e come è bella per te ogni stagione ecco qui abbiamo di nuovo questo aspetto importante della natura nel suo avvicendarsi e quando la mente si libera dai pensieri allora ogni stagione è bella perché vedete la mente invece compara comincia a vedere gli alberi spogli d'inverno e la compara alla primavera e dice eh quanto è brutto gli alberi spogli quanto sono brutti gli alberi spogli d'inverno rispetto ai fiori della primavera no? eh ma così ti perdi la bellezza del cielo che si intravede fra i rami senza senza le foglie ti perdi la bellezza della neve eccetera quindi nel momento in cui il pensiero compara ehm paragona qualcosa che non c'è a quello che c'è e si impedisce di vedere la bellezza unica di quello che c'è quando invece la mente si libera da questi pensieri allora ogni stagione è bella per te una una sera si inerpicò sino alla cima solitaria di fra le nuvole gli si scoprì la luna e come rise di cuore ecco qui abbiamo questa salita e poi a un certo punto la luna esce dalle nubi simbolismo della luna che illumina è il simbolo in questo caso dell'illuminazione e la risposta è una risata di cuore una risata perché ti accorgi che tutto quello che pensavi prima non è così che questa ricerca era del tutto vana perché quella è sempre stata lì il sorriso e il riso sono nel buddismo spesso collegati a questa rendersi conto di quanto è stato folle tutto quello che c'era prima perché era completamente irreale e Pang Yun in un verso famosissimo dice qual meraviglia soprannaturale e qual miracolo è questo tiro l'acqua dal pozzo e porto la legna cioè lui sta facendo una cosa che fa tutti i giorni prende l'acqua per portarla dentro e porta la legna ma il punto qual è è che nel momento in cui tu hai una mente risvegliata hai quello che per esempio nello Zen si chiama Soto si chiama Shoshin la mente del principiante cioè tu puoi fare cento volte la stessa cosa con la stessa freschezza la stessa meraviglia di quando è la prima quella che ha un bambino quando scopre le cose perché la mente del liberato non accumula e quindi non è ripetere la stessa cosa ogni volta è nuova ogni volta è una scoperta anche l'azione più umile come tirare acqua dal pozzo e portare la legna diventa qualcosa di miracoloso ecco perché in molti dialoghi Zen quando per esempio l'allievo chiede al maestro che cos'è la mente liberata lui gli dice è quella ordinaria non c'è un al di là è questa è questa la mente ecco dallo Zen Rin se la realtà è già evidente ma allora a che serve la meditazione e se è nascosta allora non si vedrà altro che buio meditazione e concentrazione sono cause di illusione qualunque cosa vedi è quello davanti dietro in ogni direzione la natura del cielo è originariamente chiara ma se continui a fissare allora la vista si offusca cioè se cerchi allora si crea una tensione e ti perdi questa evidenza così naturale sedendo quietamente senza far nulla viene la primavera e l'erba cresce da sé cioè tutto accade da sé naturalmente spontaneamente senza nessun bisogno di fare anche il fare accade da sé come il vuoto cielo esso parlando della dimensione liberata non ha confini è anche qui ovunque profondo e chiaro quando lo cerchi non lo trovi non lo puoi afferrare ma non puoi neanche perderlo non potendolo raggiungere lo raggiungi quando taci parla quando parli tace questo è un influsso chiaramente taoista proprio perché vengono dette cose sime nel tao la tua natura fondamentale non la puoi afferrare perché per esempio la mano come fa ad afferrare se stessa è chiaro che la mano non può afferrare se stessa ma non se ne può neanche liberare la coscienza che fa parte della nostra natura essenziale per certe tradizioni buddiste può vedere tutto ma non può vedere se stessa come l'occhio l'occhio può vedere tutto ma non se stesso non è un oggetto che si può mettere di fronte non posso vedere la mia schiena se comincio a girare su me stessa però non la posso perdere e questa è è proprio come l'essenza della liberazione sia sempre qui solo che non è un oggetto che posso trovare di fronte perché è parte della mia essenza questo è Jung Kung gli fu offerto il mondo intero egli rifiutò e se ne andò non scrisse poesie visse la poesia prima che questa esistesse non parlò di filosofia ripulì lo sporco che la filosofia si era lasciata dietro non aveva dimora viveva in una palla di polvere giocando con l'universo interno allora qui è chiaro è l'immagine di un liberato no? non scrive ecco non scrisse poesie visse la poesia prima che questa esistesse ecco per il buddismo la poesia è l'espressione di qualcosa che è un vissuto e che quello che è più importante per il buddismo è il vissuto non la poesia la poesia è utile se ti riesce a risontonizzarti con la fonte da cui è scappata perché quella fonte è appunto la dimensione liberata ecco questo invece è preso da un altro Ngoc Kien nascita vecchiaia malattia e morte fin dall'inizio è questo il modo in cui le cose sono sempre andate qualsiasi idea di liberarti da questa vita non farà che avvincerti più stretto nelle sue stile chi dorme cerca un buddha chi è turbato si volge alla meditazione ma colui che sa che non c'è niente da cercare sa anche che non c'è niente da dire e tiene la bocca chiusa cioè praticamente cercare la liberazione non significa fuggire dalla realtà della sofferenza della nascita della vecchiaia della malattia della morte significa viverle così profondamente da scoprire oltre quello che non nasce non muore quindi se io cerco di fuggire sarò sempre continuamente schiavo di quello che cerco di fuggire è quando vado in profondità che posso trovare ciò che è oltre la primavera questo è la primavera ha cento fiori l'autunno la luna chiara l'estate ha fresche brezze e l'inverno la neve se la tua mente non è distratta dai tuoi affari questa è la tua occasione terra monti fiumi in questo nulla celate terra monti fiumi in questo nulla rivelate la primavera fiorisce l'inverno cala la neve non c'è né essere né non essere e nemmeno questa negazione cioè non c'è c'è qui vedete c'è questo nulla che sarebbe la vacuità che da un lato nasconde dall'altro rivela terra monti fiumi tutte le cose e non c'è né essere né non essere di nuovo l'apofatismo andare oltre la mente e quindi cancella persino quello che lui sta dicendo perché dice neanche questa negazione e quindi all'improvviso ti leva tutto e la mente si trova senza più parole di fronte alla realtà ecco perché la realtà rimane la stessa ma nello stesso tempo è tutto diverso Bunan dice la luna è la vecchia luna di sempre i fiori sono proprio come prima eppure ho raggiunto l'essenza di tutte le cose che vedo Basho nei suoi haiku qui entriamo negli haiku ma dice a un certo punto solo perché esisto sono qui tra la neve che cade allora solo perché esisto sono qui tra la neve che cade qui c'è la differenza fra che esisto il fatto che esisto e l'essere qui da Seine direbbe Heidegger cioè tra la neve che cade l'essere il fatto che l'evento che io esisto è l'apertura all'esserci qui in questo momento tra la neve che cade perso tra i bambù ma quando spunta la luna ecco la mia casa anche qui la luna illumina ciò è prima quello che prima vivevo come essere perso si rivela come essere a casa la luna questa è è un poema di Yung Chia la luna brilla sul fiume la brezza agita il pino che cosa c'è da fare in una lunga e piacevole notte la natura del risveglio e il gioiello dei precetti sono impressi nella mente mi vesto di nebbia lugiada e rose nuvi va bene ci sarebbero tante altre cose da leggere però vorrei vorrei concludere con una poesia diciamo più recente che è di Tich Nhat Hanh appunto Tich Nhat Hanh è stato uno diciamo dei due più grandi rappresentanti contemporanei del buddismo ha avuto per carisma e per ammirazione è stato pari al Dalai Lama era era un monaco vietnamita e ha vissuto il dramma di quella guerra perché ovviamente loro aiutavano gli uni e gli altri chi soffriva e quindi erano considerati dalle due fazioni in guerra nemici perché aiutavano anche i loro nemici tant'è vero che poi lui fu esiliato dal Vietnam per tanti tanti anni e solo verso la fine della sua vita è potuto ritornare lì e quindi vorrei concludere con una poesia che tra l'altro in questo momento può essere anche molto di ispirazione la premessa leggo anche la premessa che è importante allora questa poesia è stata scritta all'epoca in cui c'era con la guerra del Vietnam c'era il dramma di boat people i boat people erano i vietnamiti che fuggivano dalla guerra su delle imbarcazioni con i pochi averi che potevano portarsi appresso ma poi in quel mare nel sud-est asiatico spesso erano vittime dei pirati che li uccidevano e li prendevano tutti loro bene si calcola che solo la metà dei boat people riesca ad arrivare a terra l'altra metà perisce in mare e dice Thich Nhat Han ci sono stati parecchi casi di ragazze violentate dai pirati ricordo una lettera che parlava di una bambina di 12 anni violentata da un pirata tailandese la bambina si annegò gettandosi in acqua la prima reazione che si prova scusate di fronte di fronte a un fatto del genere e di rabbia contro il pirata è naturale è naturale prendere le parti della bambina ma guardando più in profondità possiamo vedere le cose diversamente se ci schieriamo dalla parte della bambina è tutto facile prendiamo un fucile e lo scarichiamo sul pirata no non possiamo fare così la meditazione mi ha fatto capire che se fossi nato nel villaggio del pirata se fossi stato allevato a quel modo adesso sarei io il pirata sì con molta probabilità sarei diventato un pirata e non sarei così sicuro di dovermi condannare la meditazione mi insegna che ogni giorno nascono centinaia di bambini lungo le coste del golf del Siam e se noi educatori assistenti sociali e uomini politici non facciamo niente per cambiare la situazione tra 25 anni molti di questi bambini faranno i pirati non è solo una probabilità è un fatto e se voi o io nascessimo oggi in uno di quei villaggi di pescatori tra 25 anni saremmo un pirata prendendo un'arma e giustiziando il pirata uccidete tutti quanti perché tutti siamo in misura diversa responsabili di questo stato di cose al termine di una lunga meditazione scrissi una poesia parla di tre persone la bambina di 12 anni il pirata e me guardandoci ci riconosciamo l'uno nell'altro la poesia si intitola per favore chiamatemi con i miei veri nomi perché io ho tantissimi nomi udendo uno qualunque di quei nomi io risponderò ed ecco la poesia non dire che domani scomparirò perché io arrivo sempre guarda in profondità io arrivo ogni secondo per essere un germoglio sul ramo a primavera per essere un minuscolo uccellino con le ali ancora fragili che impara a cantare nel suo nido per essere un bruco nel cuore di un fiore per essere un gioiello che si nasconde in una pietra io arrivo sempre per ridere e per piangere per temere e per sperare il ritmo del mio cuore è la nascita e la morte di tutto ciò che vivo io sono un insetto che muta la sua forma sulla superficie di un fiume e io sono un uccello che a primavera arriva a mangiare l'insetto io sono una rana che nuota felice nell'acqua chiara di uno stagno e sono il serpente che avvicinandosi in silenzio divora la rana e io sono un bambino in Uganda tutto pelle e ossa le mie gambe esili come canne di bambù e sono il mercante di armi che vende armi mortali a Lugano io sono la bambina dodicenne profuga su una barca che si getta in mare dopo essere stata violentata da un pirata e io sono il pirata il mio cuore ancora incapace di vedere e di amare io sono un membro del politburo con tanto potere a disposizione e sono l'uomo che deve pagare il debito di sangue alla mia gente morendo lentamente in un campo di lavori forzati la mia gioia è come la primavera così splendente che fa sbocciare i fiori in tutti i sentieri della vita il mio dolore è come un fiume di lacrime così gonfio che riempie tutti i quattro oceani per favore chiamatemi con i miei veri nomi cosicché io possa udire tutti i miei pianti e tutte le mie risa insieme cosicché io possa vedere che la mia gioia e il mio dolore sono una cosa sola per favore chiamatemi con i miei veri nomi cosicché io mi possa svegliare e cosicché la porta del mio cuore sia lasciata aperta la porta della compassione e mi fermo qua naturalmente sono le analisi di queste poesie potevano essere ancora molto più particolate ma ho preferito privilegiare una certa varietà insomma non so se Alessandro voleva intervenire io personalmente intanto ti volevo ringraziare per questo intervento devo dire che io diciamo che vedo tutto con i miei occhiali che sono quelli della letteratura e della cultura occidentale e la cosa che mi ha colpito molto devo dire è stata proprio l'idea che non esiste una separazione perché ogni volta che citavi una poesia o citavi un'idea a me veniva subito in mente un contraltare della cultura occidentale che in qualche modo l'avesse o ripresa o sviluppato un pensiero simile penso alla prima cosa che hai nominato e a Montale di forse un mattino andando in un'area di vetro in cui lui Montale ha molto questa idea della rivelazione del mondo che non c'è del mondo che in realtà va che è fatto di vuoto che è fatto di di cose che sono tutte apparenze che poi è un po' montato da da Platone dal mito della caverna però è interessante questa idea che culture diverse e anche lontane tra di loro abbiano sentito il bisogno con linguaggi diversi ma di dire cose che hanno una linea comune che le tiene insieme e questo mi sembra molto interessante per esempio un'altra cosa che mi sono insegnato perché mi è piaciuta molto quando hai citato questa frase che è una zattera per attraversare ho usato queste parole e ho pensato alla definizione del mito che davano i greci che dicevano che il mito è un ponte che è un po' anche il nostro modo di usare le parole le parole sono dei ponti e l'idea è che ci sia qualcosa di bello nella poesia e che sia universale e che quindi si possa trovare la bellezza e la rivelazione tanto in un testo scritto magari duemila anni fa in India o in Cina come invece in un testo scritto l'altro ieri in non so in Brasile o in Svizzera da un poeta contemporaneo quindi ti ringrazio e insomma non so io personalmente volevo dare questo contributo visto che domande non ce ne sono non so se ecco se Alessandro voleva dire qualcosa o fare una domanda altrimenti io mi taccio sì io in realtà insomma alcune considerazioni le avrei ma ovviamente per brevità non le espongo però sicuramente l'ultima poesia ma devo dire che mi ha emozionato non l'avevo mai mai ascoltata e con tutto l'incipit insomma è stato insomma per me insomma toccante e mi sono solo segnato una cosa ma non tanto proprio quando hai parlato di Shantideva che come mi è venuto in mente che quando sto bene io sono la mano che lenisce il piede e il piede invece quando sto male scusa io sono quando sto bene io sono la mano che lenisce il piede quando sta male invece sono il piede lenito dalla mano quando io sto male insomma penso che era questa considerazione del anche nel come dire nei vari ruoli sociali in cui uno si trova a volte a dover che aiuta magari oppure riceve l'aiuto ecco questa questa connessione vista in maniera più più allargata di unità in qualche modo di non distinzione che in certo senso si vive pur non come dire pur non esprimendola magari in senso pur non essendone coscienti in certo senso beh Shantideva e con lui insomma diciamo altri esponenti del buddismo maayana che si concentra molto sull'idea di compassione però mantenendo l'idea che l'io separato è illusorio ecco insistono sul fatto che un conto è vivere la compassione come un soggetto io che provo compassione e che agisco per aiutare qualcun altro che soffre va bene e invece quando la compassione trascende la differenza la separazione fra diciamo il soggetto l'azione e l'oggetto e diventa un'unica cosa diventa una risposta una risposta spontanea come la mano quando va a venire il piede in fondo quando noi parliamo per esempio di empatia nel buddismo esistono delle forme diverse di empatia che vengono chiamati da un lato sono quattro forme diverse c'è l'amore per se stessi e per gli altri diciamo l'amore come desiderio di felicità insomma l'augurio di felicità poi c'è la compassione cioè sentire il tuo dolore come il mio poi c'è mudita cioè la gioia empatica invece sentire la tua gioia come mia e poi ci sta l'equanimità e sentire tutto in maniera equanime senza scelta ora prendiamo per esempio questa gioia empatica noi abbiamo vari esempi in cui lo proviamo e non lo proviamo cioè se per esempio sono in lizza per con un collega d'ufficio per avere un avanzamento di carriera e vince lui e io rimango al palo lui è felice ma io non provo felicità provo semmai invidia ma se invece ho un figlio un bambino piccolo quando lui è felice io sono felice c'è questa questa empatia cioè la la separazione è meno evidente quindi l'empatia viene nella misura in cui l'idea di essere unione o separato si assottiglia o addirittura sparisce ecco quindi in questo senso la compassione non è mai guardare dall'alto chi soffre no? no la compassione è un'azione che viene talmente spontanea che tu non hai nessun merito tra virgolette ho messo tra i commenti di facebook una poesia di Walt Whitman perché mentre parlavi mi girava in testa e e me l'ha ricordata la tua ultima poesia tra l'altro Walt Whitman lo segnaliamo perché credo sia tra i più interessanti da questo punto di vista onestamente non ricordo la biografia ma secondo me un po' di studi deve averli fatti e e me la ricordava molto magari ci salutiamo con Walt Whitman e con l'invito a leggere da parte mia Live of Grass Foglie d'Erba che è sempre un grandissimo classico della letteratura e poi invece i tanti stimoli che ci ha lasciato insomma Mauro con le tante citazioni visto che per associazione hai citato Whitman e anche anche quella una poesia di Elliot Thomas Elliot nei quattro quartetti c'è una poesia particolarmente interessante che vi consiglio di leggere che ha molto di di questa di questo parla della anche della danza cosmica insomma va bene va bene insomma è bello quando poi gli incontri finiscono con insomma la voglia di andare oltre di scoprire ancora di più che poi è un po' il senso di quello che proviamo a fare con questi festival e in generale con la nostra azione di divulgazione della poesia e della cultura grazie a tutti di essere stati con noi e buon proseguimento vi aspettiamo a settembre a similitudini restate collegati sulla nostra pagina perché poi vi daremo le informazioni del festival fisico insomma potendolo sperando di poterlo fare senza troppe restrizioni diciamo dovute al al covid grazie mille al nostro redatore e buonasera a tutti quanti arrivederci arrivederci grazie a tutti